Ciao a tutti, io sono Edoardo Ridolfi. Ed io sono Marco Matarazzi. Benvenuti al nostro podcast Ospitalità 4.0. Oggi parleremo di la maratona dell'hotel. Una delle particolarità del nostro podcast Ospitalità 4.0 è quello di fare dei paragoni tra il mondo dell'ospitalità appunto e quello della vita reale. Ed oggi ci hai fornito Marco un paragone, una metafora molto semplice che è quella della maratona perché alcuni giorni fa hai corso la tua prima maratona a Firenze. È vero, è vero. Quindi ci tenevo a fare questa puntata così che tutti i nostri ascoltatori potessero sapere che avevo corso la maratona. Che cacchini ne frega a loro? Giubilo e grande festa. Grande festa. Ovviamente non è per elogiare le mie doti sportive che sono sempre state abbastanza opache nella mia storia, però cerchiamo di fare questo paragone perché con i paragoni si capisce, no? Un po' delle metafore. Sì, 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 sì. Ci siamo resi conto nel Dietro le Quinte come correre in una maratona e gestire un hotel abbia un numero sorprendente di somiglianze, no? È vero. Poi sai, durante la corsa l'ho pensato di tutte, dal chi me l'ha fatto fare, perché ston qui, eccetera. E poi uno pensa anche al lavoro, alle idee che ti vengono. Comunque il tempo c'è. Esatto, c'è di tutto. Dall'euforia al senso di scoramento, all'euforia finale che dice ok, chi me l'ha fatto fare però è stato troppo bello, lo voglio rifare. Quindi è un mix di emozioni. Così com'è il lavoro in qualsiasi azienda. Ma veniamo a come è composta una maratona. Aspetta un attimo. Tu quindi mi vuoi dire che questa puntata non ci racconti le origini della maratona? Uno come te, un letterato, salta questo aspetto? Guarda, questa volta sì. Questa volta sì. Questa volta mi tiro indietro perché voglio entrare proprio nel pratico, nell'ambito sportivo, non quello storico. Però secondo me è perché non te lo sei preparato. Io però ce l'ho sotto. No, no, no. Lo risparmio, lo voglio risparmiare perché voglio entrare subito nello sportivo. Quindi come funziona una maratona, Marco? Quali sono i passaggi propedeutici per andare a correre in una maratona? Ok, i passaggi propedeutici sono diversi. Perché? Perché la maratona è una gara di corsa lunga, 42 chilometri e 195 metri. Bene. Generalmente è corsa in pianura, quindi non è un trail sulle montagne, un altro tipo di corsa che mi piace particolarmente, ma non è quello. Quindi la distanza è sempre fissa ed è la distanza tra Atene e la città di Maratona. Ok. Allora vedi che te l'hai riprevalata te, la volevi fare te questo intervento storico-letterario. Esatto. E quindi all'epoca, durante la battaglia di, mi ricordo, secondo la tradizione del 490 a.C., l'esercito persiano sbarcò sulla costa greca per una spedizione contro Atene e quindi gli Atenesi mandarono il messaggero Filippide a chiedere aiuto a Sparta. Quindi la distanza era a questi 42 chilometri. Bene. Tornando a noi, ecco, da lì quindi nasce questo Filippide che correva verso la città di Maratona e è arrivato finito, più o meno come sono arrivato finito io. Ok. Quindi c'è una parte di preparazione, una preparazione che parte da mesi prima, quindi devo aver pianificato bene le mie sessioni di allenamento, devo aver mangiato bene, devo aver mangiato con attenzione, sia nei mesi prima, quindi di scarico, sia con un carico più orientato ai carboidrati gli ultimi giorni. Poi senza entrare troppo nel dettaglio, c'è diciamo una preparazione anche alimentare. Quindi mentale, fisica e alimentare. Questi sono i tre fronti su cui ti devi preparare. Chiaro. Quindi già qui penso che ci sia la prima similitudine con il settore dell'ospitalità. Ok. Quando noi pensiamo al nostro nuovo anno di business, dobbiamo iniziare a prepararci prima. Dobbiamo iniziare a preparare le nostre cartucce. Quindi dobbiamo iniziare a mangiare bene, quindi iniziare a studiare, a documentarci sui nuovi trend. Dobbiamo capire su quali canali vogliamo andare a distribuire. Sì. Quindi a bocce ferme, ancora prima di iniziare la nostra gara, che sarà appunto tutto quanto il nostro anno di lavoro, dobbiamo avere chiaro che dobbiamo aver fatto i nostri compiti, dovremmo aver mangiato i nostri broccoli. Quindi cose che non ci piacciono, che non ci piacciono, che non sono le fritture, ma che servono, sono propedeutiche per poter intavolare in modo giusto il nostro anno. Esatto. Ci serve preparare un piano, lo diciamo sempre, quindi una strategia. La strategia. Inizia a monte questa strategia. Se devi aprire il tuo hotel a maggio, non fai la strategia ad aprile, ma la farai molto prima. La devi fare prima, ovviamente, e ti imposti tutte quante le carte in tavola. Ok. Poi, se ci pensiamo, si dice che la maratona è divisa in quattro blocchi, non so se lo sai. I primi 30 chilometri, poi ci sono 10 chilometri, poi più 2, più 195 metri. Ok. I primi 30 chilometri si corrono con le gambe. Bene. Quindi significa che tu sei preparato, quindi li corri, effettivamente che riesci. Ok. Poi, dal trentesimo chilometro in poi, si sbatte contro il famoso muro, no? Il famoso muro che dice che non esiste, io l'ho sentito, quindi per me esiste. Che è composto dai successivi 10 chilometri. Questi si corrono con la testa. La crisi del maratoneta. La crisi del maratoneta, del trentesimo chilometro. E si corrono con la testa questi 10 chilometri, dopodiché ce ne sono altri due. Ok. Arriviamo a 42. E quelli si corrono con il cuore, perché la testa ormai è andata. È andata anche quella. Esatto. E gli ultimi 195 metri si corrono con le lacrime. Quindi questi sono gli step che ho rivissuto in qualche modo, perché mi ci sono trovato. Ok. Quindi facendo una similitudine con il settore alberghiero, i primi 30 diciamo che sono frutto di tutto quello che hai pianificato attentamente, quindi delle strategie tariffarie che hai messo in atto, di come hai promosso il tuo hotel con campagne di marketing, con tutte quelle tipologie... Il posizionamento SEO, magari gli articoli che hai scritto che impiegano del tempo a posizionarsi. Bravissimo. Hai fatto i compiti, hai mangiato i tuoi broccoli. Ti sei allenato. Ti sei allenato e hai mangiato bene. Esatto. E qui rientrano i primi 30 chilometri. Ma secondo me la parte più interessante è nei quei 10 chilometri, in quella crisi del maratoneta. Perché magari la stagione sta andando meno bene e lì ti prende il panico. Così come la corsa. La corsa sta andando meno bene e lì ti prende il panico. Ti sembra che stia andando meno bene, o perlomeno non è detto che stia necessariamente andando meno bene. Perfetto. Ti ci trovi dentro, perdi lucidità. Perché chi è dentro una situazione tendenzialmente è meno obiettivo. Ok. E quindi hai gli alti e bassi, no? Tutti gli imprenditori che ci ascoltano alberghieri hanno momenti di un ottovolante, come dicono in America, un rollercoaster, quindi alti e bassi, e durante quegli alti e bassi devi essere abbastanza bravo da riuscire a razionalizzare e dire no, la direzione che ho impostato è corretta. Oppure no, la direzione che ho impostato non è corretta, devo fare dei piccoli aggiustamenti. Sempre con la testa e mai con la pancia. Ok. Quindi qui che paragone ci vedi con il settore dell'ospitalità? Se ne dovresti trovare uno, qual è il primo che ti viene in mente? Non fare il revenue management del lunedì. Quello che noi chiamiamo così, no? Bello. Dove tu dici, abbassa i prezzi, alza i prezzi, sposta i prezzi. Fai operazioni che poi non sono misurabili. In questi dieci chilometri devi continuare a utilizzare la testa, perché ci sei dentro fino al collo, nel senso buono ovviamente, e devi impostare una strategia, anche in quella fase, da buon condottiero, che sia sensata e che sia misurabile. Ok. Perché se faccio le cose di pancia, probabilmente non saprò se hanno portato un qualcosa di buono o un qualcosa di meno buono. Chiaro. Quindi questi dieci chilometri devi valutare la crisi, perché magari la crisi nemmeno c'è. La crisi forse nemmeno c'è, però magari ce l'hai dentro la testa. Chiaro. Tanto è tutto dentro la testa, alla fine le gambe continuano ad andare, il business continua ad andare. Ed è importante però ascoltarsi. Non è che dici, va tutto quanto bene, attappo il naso e gli occhi e continuo, perché magari lì effettivamente qualcosa potrebbe andare meno bene di come avevamo previsto. Chiaro. L'importante è non andare di impulso. Quindi questi sono i dieci chilometri. Gli ultimi due chilometri invece mi immagino che sia il rush finale, no? Quindi se l'anno è andato bene o è andato male te la giochi negli ultimi due chilometri. Io direi che potrebbe essere quel più o meno 8-10% sul nostro fatturato che è dato dagli ultimi due chilometri. Ok. E una differenza di un 8% sul fatturato fa la differenza, nel senso distingue un anno ottimo da un anno buono, un anno buono da un anno sufficiente, un anno sufficiente da uno insufficiente. Quindi negli ultimi due chilometri puoi andare a spostare l'asticella facendo quei ritocchi, quei dettagli che alla fine ti garantiscono un anno che sia veramente ottimo. Ed è importante giocarseli bene quei due, gli ultimi due chilometri. Perché, come diciamo, una percentuale anche bassa, anche piccola, su un fatturato interessante sposta parecchio. Chiaro. Sposta anche il nostro brand. Quindi non è solo questione di soldi, è questione che con dei piccoli interventi fino al dei ritocchini possiamo andare a migliorare la nostra reputazione su un portale TripAdvisor, su Booking, recensione dei clienti, passaparola. I dettagli. I dettagli che sono fondamentali e sono gli ultimi due chilometri. Bello. E a questo punto ci sono, va bene, i classici 195 metri finali che si dice che si corrano con le lacrime anche agli occhi, quindi per soddisfazione personale. È vero, è vero, è che lì a quel punto cosa fai? Ti rimane altro che goderti il momento, alzare le braccia. La tua stagione l'hai corsa, si è andata bene, si è andata male, si è andata così e così, ormai l'hai corsa. Non ti rimane che goderti il traguardo, quindi arrivi alla fine con il pubblico che batte le mani, ti gasa, sei contento e tagli il traguardo. Ok. E poi la maratona è finita. La maratona è finita, ma arriva il momento migliore, quello per me dell'analisi e della misurazione, in cui te avrai misurato i tuoi risultati, avrai detto ok, perfetto, ho corsi i miei primi 30 chilometri così, dall'altra parte c'è l'albergatore che a fine anno, attraverso i suoi strumenti di report che utilizza, farà un po' i conti su come è andata la stagione. Ma prima di questo, e ci tenevo particolarmente, è l'importanza di capire anche se hai scelto l'attrezzatura giusta e te la lancio così. Eh sì, esatto. Eh sì, è vero, hai ragione, perché anche gli attrezzi di cui ti sei dotato hanno fatto la differenza probabilmente. Il meteo è un fattore che tu devi prevedere, come anche magari la tipologia di scarpa che utilizzi. Per esempio nel caso mio della maratona di Firenze sono arrivato con un paio di scarpe vecchie, perlomeno finite, usurate, perché avevo le scarpe nuove ma non le potevo inaugurare durante la gara, perché non si prova niente in gara, si prova prima, almeno due o tre allenamenti prima, quindi le mie scarpe avevano 760 spicci chilometri e ho concluso la gara con 800 chilometri sulle scarpe, che sono tanti per una scarpa da running, e quindi la mia scarpa in quel momento non era proprio adatta e infatti ancora ho qualche strascico di dolore sotto il piede, dipende dalla scarpa, non lo so bene, però sicuramente non mi ha aiutato. Ma magari anche mentalmente non l'ha fatto. Si corre, si fregia di questa frase, è la scarpa che colpisce l'asfalto, come per dire della sua importanza, no? Secondo me questo è importante, lo vorrei sottolineare, anche in un approccio alberghiero, ma in qualsiasi azienda, è lo strumento che utilizzi che ti porta poi a fare la differenza. Poi c'è la pianificazione, è tutto importante, ma con un buono strumento correrai una buona gara. Assolutamente, c'è da dire che io ho visto delle persone correre accanto a me a dei ritmi molto bassi, con delle scarpe da 300 euro, e lì magari anche struffando il piede senza fare la rullata come si deve, adesso io faccio finta di essere tecnico, ma in realtà non lo sono, quindi i puristi del running potranno anche mandarci delle mail minatorie a podcast e chiocciolaslope.it, come sempre, però abbiate pietà. Quindi questi qui che si comprano il top e poi non lo sanno utilizzare, ma perché non lo sanno utilizzare? Perché non hanno posto attenzione su, se andate su YouTube, insomma mi segue un allenatore che è molto attento all'analisi, alla tecnica di corsa. Cacchio, non ti mettere le scarpe e esci così a correre a cacchio come un cavallo sciolto, cerca un attimino di starci attento nella postura, nella rullata che hai del piede e così via. Devi porci attenzione perché quello impatta e quando corri per 42 chilometri fa la differenza. Quindi lo strumento giusto, ma anche saperlo utilizzare o quantomeno dedicare del tempo per fare attenzione a utilizzare gli strumenti nel modo giusto, perché non c'è strumento che tiene se tu non ti sei preparato, se tu non ti sei formato. Poi certo, la scarpa migliore o il miglior software gestionale, io ne conosco uno per esempio che è molto valido. Sicuramente ti possono automatizzare un sacco di operazioni, ma se il tuo pricing è completamente sminchiato non c'è trippa per gatti. Chiaro. Quindi finita la maratona si misura, si guarda. La mia scelta dell'abbigliamento era giusta, ero troppo sentito caldo, sentito freddo, mi sono alimentato bene durante la gara. Anche quello. Quindi durante i ristori ho preso i gel al momento giusto, ho preso l'acqua o i sali al momento giusto, ho mangiato la merendina, l'avrei dovuto fare oppure no. Quindi a posteriori vai a misurare cosicché la prossima maratona, e fidati che quando corri una maratona poi ti iscrivi subito a un'altra, cosa che è successa ieri, quindi la prossima maratona sarà quella di Roma, non puoi più smettere. Come anche nel settore dell'ospitalità, non è che finita una stagione tiri giù la serranda e finisci lì, ne inizia un'altra. E per iniziarla nel modo migliore, per me non la vincerò mai una maratona, sono scarso, quindi tutti quanti tranquilli. Però nonostante ciò, nonostante ciò è importante cercare di migliorarsi, per fare le cose nel modo giusto, per evitare di avere gli acciacchi il giorno dopo, per darsi anche delle soddisfazioni. Poi, se si tratta di lavoro, diventa fondamentale lavorare bene e far bene. Se si tratta di un passatempo come correre una gara, nel mio caso, è più una questione di amor proprio che d'altro. Però le similitudini ci stanno. No, no, l'importante era portare delle similitudini e ovviamente fare una puntata in cui parlavamo della tua prima maratona, quindi grazie per averci ascoltato. Non l'abbiamo forzata nemmeno troppo alla fine, dai. No, 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 assolutamente. No, dai, ci stava. Sì. Mi è piaciuta, eh? Anche a me, sì. Come al solito, potete scriversi a podcastchiocciolaslope.it facendo i complimenti a Marco o dandoci il vostro feedback al riguardo. Non glielo diciamo a quanto l'ho corsa. No. No, va bene. Non glielo diciamo. Comunque via. Discreto. Non ottimo. Non pessimo. Tagliamola qui. Ciao a tutti e buon lavoro. Buon lavoro, ciao. Buon lavoro, ciao a tutti.